Grande numero, fantastico, tackle bellissimo, preciso, efficace, ottimo tiki-taka. Ecco il tiro, la mette dentro e adesso è tutto in parità. Parità dunque ristabilita fra le due squadre, vedremo adesso che avrà più forza per rompere l'equilibrio. Il tiro poteva rimbalzare sul pallo e ritrova in campo, invece si è infilato in retta. Un gol questo che merita di essere rivisto anche da un'altra angolazione.